Hai mai perso le chiavi di casa? Fortunatamente no, anche perché se no era un casino. Hai mai spiato un vicino? Sì, anche perché dove avevo avuto prima con i miei, succedeva sempre casino con i vicini, quindi ero sempre a guardare e spiarli. Hai mai fatto una pazzia per amore? No. Hai mai inviato a qualcuno il messaggio sbagliato? Sì, è successo anche ieri con mia mamma che dovevo mandare un messaggio al mio ragazzo e in realtà ho fatto mia mamma, però va bene lo stesso. Hai mai fatto una festa epica in casa? No, però mi piacerebbe perché voglio inaugurarla.